Pronto? Sì, pronto, ci sento. Ciao Suad, ascoltami. Allora, ci puoi raccontare cosa è successo questa mattina? Che ora sono arrivati i carabinieri, i polizia? Allora, eravamo fuori il cancello. Quando siamo venuti dalla polizia, ognuno di noi ha scappato di dentro. Abbiamo preso tutti quanti la decisione di salire sul male, di rifiuti, modo di trovare soluzioni, perché veramente quasi due mesi che siamo fuori, non abbiamo risultato niente, abbiamo deciso di essere qua.